I contagi all'Aquila cominciano a scendere ma ancora ci sono. Quella che entra potrebbe essere la prima settimana con una diminuzione sostanziale se l'andamento attuale si manterrà tale. I ricoveri sono stazionari ma la pandemia è tutt'altro che sconfitta, il dato è che si dovrà convivere con il virus e le sue mutazioni. I numeri però inducono a guardare con ottimismo perché ad esempio a livello provinciale sono scese le persone in isolamento domiciliare di oltre 600 unità in una settimana e c'è anche uno scostamento di 15% di casi in meno rispetto alla settimana precedente. La curva qui all'Aquila sta scendendo pian piano. Ovviamente c'è un lieve calo però la contagiosità è ancora alta della variante Omicron 2. Non sta dando però la malattia grossi problemi a livelli di ricoveri ospedalieri. Abbiamo circa 90 persone per quelli che sono la medicina Covid, quindi ricoveri ordinari ed attualmente una sola persona è in terapia intensiva. Chiaramente questi sono dati a livello provinciale. Stiamo migliorando ma con molta lentezza anche perché la stagione è ancora abbastanza fredda. Intanto in merito ai vaccini il centro vaccinale di San Vittorino ha chiuso i battenti. All'Aquila sarà possibile vaccinarsi solo a Bazzano. Si è stabilito che la quarta dose toccherà gli over 80, gli ospiti dell'RSA e le persone fragili di età compresa tra i 60 e i 79 anni. Ma le ASL, anche quella dell'Aquila, sono in attesa di comunicazioni ufficiali da parte dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero per organizzarsi al meglio. La quarta dose ai fragili in realtà in Abruzzo si è iniziata a somministrare già dal primo marzo. Ad ogni modo l'ASL, la sua organizzazione non l'ha mai smantellata e dunque è pronta ad iniziare quando arriveranno indicazioni più precise. Intanto però si dovrà cominciare a pensare ad un richiamo annuale come spiega il dottore Enrico Gianzante. La nostra organizzazione è pronta ad affrontare qualsiasi situazione. Dal primo marzo noi stiamo effettuando le dosi ai fragili e alle persone indicate come particolarmente abbisognevoli di quella che è la quarta dose. Le indicazioni che adesso dovrebbero arrivare sono per gli over 80, però noi attendiamo le comunicazioni ufficiali da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Una cosa è certa, un po' tutti noi dovremo abituarci ad un richiamo periodico del Covid che probabilmente avverrà nella fase autunnale, un po' come facciamo per l'influenza e quindi stiamo anche attendendo quello che è il vaccino che verrà aggiornato sulle varianti che verranno. Speriamo si fermino l'Omicron 2.